I dati sono quelli pubblicati in rete da repubblica.it e rilasciati dall'osservatorio job pricing. Sono relativi alle retribuzioni medie annue lorde, dati che vengono osservati per comprendere l'antamento di salari e stipendi nei vari ambiti territoriali del paese. Bene, una prima lettura mostra sicuramente quella che è una radicale e concreta differenza tra il centro nord e il centro sud in Italia. Lo sottolinea anche la CGL regionale che in una nota afferma che al centro sud, oltre a livelli allarmanti di disoccupazione generale compresa quella giovanile, i dati diffusi confermano una preoccupante allerta rispetto alle retribuzioni lorde che sono più basse del 30% rispetto al centro nord. Infatti, a fronte della Lombardia che si colloca al primo posto con oltre 31.000 euro di retribuzione media e il Trentino Alto Adice che la segue con poco meno di 31.000 euro, il Molise trova soltanto il diciassettesimo posto con una retribuzione media lorda di 24.660 euro. Seguono la nostra regione, la Sardegna, la Basilicata e la Calabria. Naturalmente questi dati confermano la necessità immediata di un impegno straordinario che ponga al centro il tema del lavoro, i suoi diritti e la crescita dei redditi, come si sottolinea dalla segreteria della CGL Molise. Senza un vero impegno su questi temi, la stessa economia regionale non troverà un vero momento di ripresa, poiché con redditi così bassi si rischia di deprimere la domanda interna, rendendo sempre più difficile prospettare una nuova visione di crescita economica e sociale.